Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 8 febbraio, oggi abbiamo fatto un po' tardi, adesso ho fatto un po' tardi, mi sono fatto una super grande rilassante sciata, però vediamo subito quali sono i temi della giornata, qua dove non ci sono mascherine, perché sono in montagna, forse il virus in montagna non c'è, sui giornali ovviamente il tema del coronavirus è ancora il principale. Bloccati in Cina 600 italiani, anche perché siamo uno di quei paesi talmente folli che si sono inventati questo blocco dei voli talmente folli, per cui per venire in Italia tutti i nostri amici da Hong Kong, dalla Cina, quelli che lavorano in aziende là, non questi 600 di cui stiamo parlando, cosa fanno? Vanno dalla Cina a Londra, dalla Cina a Parigi, dalla Cina a Dubai e poi da lì riescono ad arrivare in Italia, ovviamente quindi il nostro traffico aereo serve veramente a nulla nell'averlo bloccato. Per la verità poi ci sono altri due fattori di cronaca, nella cronaca appunto di questo virus che spero non sia la spagnola, e cioè che c'è un secondo sospetto in Italia, ci sono tutte quante poi le indiscrizioni su quello che è stato contagiato nella quarantena e che i ragazzi della quarantena dovranno continuare a fare altri 15 giorni di quarantena. Allora io mi chiedo, in realtà tra di loro avevano avuto dei contatti insomma un po' più promiscui, mettiamola così, perché si debba riniziare la quarantena. E in più vi è una nave di crociera, questa forse è la cosa più spaventosa, con 3.500 persone a bordo, di cui 61 sarebbero infetti, quindi un ratio piuttosto alto di queste infezioni su questa nave, in cui ci sarebbero anche 35 italiani. Ma il pezzo che oggi merita, come possiamo dire, l'applauso, l'apoteosi degli applausi è quello come sempre di Ricolfi sul messaggero, le aberrazioni del politicamente corretto che si vedono in questa storia del coronavirus. Per i guardiani del bene, scrive in maniera straordinaria Ricolfi, la paura è irrazionale, mentre qui mi sembra che qualche elemento di razionalità, a dispetto di quello che ho sempre detto io, c'è in questa paura. E il fatto, ad esempio, che dei bimbi provenienti dalla Cina vengano tenuti in isolamento e vengono non accolti nelle classi, come hanno chiesto con una lettera garbata ai governatori del Nord, sostiene Ricolfi, mi sembra una cosa che non ha nulla a che vedere con campagne di odio, con razzismo, con stupidaggi di questo tipo, ma mi sembra una vera e propria epidemia di stupidità attribuire al razzismo comportamenti prudenziali che peraltro il governo adotta per primo. Insomma, il punto di vista di Ricolfi oggi, come sempre, fa discutere e a me piace moltissimo. Quindi Ricolfi lo trovate sul messaggero, vi segnalo anche... Va bene, rimaniamo qua. Secondo grande tema della giornata, che è il tema che si dibatte tra politica e giustizia, è la questione che lunedì dovrebbe esserci un decreto legge col quale, come possiamo dire, cambiare la legge sulla prescrizione che già è in vigore dal primo giornale del 2020, voluta non solo dal ministro Bonafede, ma bisogna ricordarlo anche apprezzata e accettata dalla Lega con il ministro Buongiorno, che oggi tanto strepita, che all'epoca governava insieme a questi qua. La soluzione che hanno cercato di trovare è una soluzione abberrante. Oggi il resto, l'intervista di Andrea Orlando, che di giustizia se ne intende, ex ministro della giustizia, e comunque del Partito Democratico, sul fatto quotidiano che ci spiega come è il sistema e che come forse Renzi, che si oppone in tutti i modi a questa legge, non ha tutti i torti, mi duole dirlo. Perché? Perché prima cosa succedeva con la legge Bonafede? Finito il primo grado, era finita la prescrizione. Cioè dovevi metterci, che so, sette anni e mezzo la prescrizione per un certo reato. Se si concludeva a sei anni il primo grado, era finita la possibilità di prescrizione. Adesso che cosa si sono inventati? Si sono inventati che questa cosa qua rimane identica. Quindi se si è condannati in primo grado, la prescrizione viene bloccata. Se si è assolto in primo grado, che era un'altra delle aberrazioni di questo blocco della prescrizione, quindi io vado a processo, vengo assolto in primo grado e a quel punto continuo ad andare avanti la prescrizione. Quindi insomma per gli assolti andrebbe avanti e per i colpevoli non andrebbe avanti. Ma i colpevoli in realtà hanno un altro strumento e cioè se fossero assolti, sentite bene, in secondo grado, nonostante non si sia bloccata la prescrizione, retroattivamente varrebbe la prescrizione. Insomma, se non ci avete capito nulla, non è importante. Questa norma è una norma, come sempre, di compromesso, di merda all'italiana, in cui le persone normali, cioè noi che votiamo i politici, che dovrebbero governarci nel nostro nome, fanno delle norme incomprensibili o comunque così difficili da spiegare che rendono la materia, anche per le persone più semplici che dovrebbero capire le norme alle quali sono sottoposte incomprensibili, come in questo caso. Orlando dice, dunque, che la norma più che incomprensibile rischia di essere anche un po', come possiamo dire, incostituzionale. Meli, che intervista Renzi, il Corriere della Sera, la Meli, che è, diciamo, la voce di Renzi, la quirinalista renziana, mettiamola così, dice, mi cacciano se vogliono farlo. Cioè, Renzi si è già messo in modalità difesa, cioè come quel giocatore che va in area di rigore sperando che facciano il fallo. Il fallo ovviamente è orribile, quello della prescrizione, ma lui spera tanto che glielo facciano, anche perché il suo più grande sponsor, chi è, oltre alla Meli, il giornale renziano, che oggi però sta diventando un giornale contiano, e cioè il foglio quotidiano, quello che critica i cretini di destra come noi, ma loro non sono mai cretini, sono dei geni assoluti. I geni assoluti del foglio cosa dicono nel pezzo del suo direttore Cerasa oggi? Che al Senato non ci sono i voti sufficienti per poter, senza i renziani, di poter cambiare questa legge, cioè fare il decreto che abroghi la legge Bonafede. Quindi il paradosso è che, non avendo voti al Senato per cambiare questa legge, si ritornerebbe alla vecchia Bonafede che piace ancora di meno a Renzi. Ma, poi dice un'altra cosa, il foglio, mi diverte, perché il giornale renziano svela a Renzi una cosa che tutti quanti noi sappiamo, è che è una fake news, quella di andare alle elezioni anticipate, perché Renzi, avendo il 3-4% di consensi elettorali, non romperà mai, dice Cerasa, questa legislatura, perché in realtà anche se si dovesse parlare con Salvini, Salvini il governo se lo fa da solo, motivo per il quale il foglio, quegli intelligenti liberali di sinistra, ci dicono che non si fa le elezioni. Qual è il motivo per non andare alle elezioni? Per non vincere Salvini e loro ci fanno le elezioni a noi, diciamo, di democrazia e di libertà. Conte, per Repubblica, in realtà, ha una posizione diversa rispetto a quella che scrivono tutti i giornali, e cioè avrebbe rinunciato a fare il decreto lunedì per cambiare la buona fede, perché stacerebbe cercando di mettersi d'accordo con Renzi. Beh, insomma, questa vicenda la scopriremo lunedì a Quarta Repubblica, perché sarà uno dei grandi temi che affronteremo. Non affronteremo, ve lo diremo subito, e subito ci sono quattro deficienti che diranno il servo del cavaliere. Ecco, questa storia di Graviano che dopo 27 anni un omicida, stragista, condannato a diversi ergastoli, dice che ha fatto tre cene eleganti col cavaliere, solo qualche magistrato, guarda caso il fatto quotidiano che con quel magistrato ha dei rapporti di sangue, nel senso di grandissimo affetto, solo qualche magistrato in fatto possono ancora stare appresso a un pentito che non è pentito perché non si è mai pentito, e cioè un mafioso che come dice oggi Sallusti è un uomo di merda. Lo scrive Sallusti, non io, non mi gueredate, spero che i mafiosi non mi gueredino per questa definizione che ha dato Sallusti di un uomo che non si è mai pentito delle stragi del 92-94 e dopo 27 anni si ricorda di cena elegante con Berlusconi, dice dopo 27 anni ero socio di Berlusconi. che sia un delinquente ci sono pochi dubbi, lo stesso travaglio oggi scrive non basta il suo status per togliere credibilità alle sue parole, uno che invece vive di sospetti, allora un sospettato non ha nessun valore, un indagato non ha nessun valore in quello che dice, un condannato per stragi invece ha valore quello che dice, se non so cosa possiamo dire Siri, dice guardate io non ho fatto quella roba là, oppure un indagato dice non ho fatto quella roba là non è credibile perché è indagato, se invece uno è condannato per l'ergastolo per stragi mafiose beh allora dice non si toglie credibilità per il solo fatto che è indagato per stato condannato per stragi mafiosi, beh la logica la logica di travaglio è straordinaria. Tra l'altro divertente oggi c'è una piccola lite per donne che ho letto oggi sul fatto quotidiano tra l'amministratrice una delle travaglio girls che si chiama come si chiama Monteverdi una di quelle che partecipano alle serate alla barchetta i balletti insomma della barchetta oltre a travaglio voglio dire scusami c'è questa grande amministratrice del fatto quotidiano che l'ha quotato toc toc quanto vale in borsa oggi? è quotato il fatto non mi ricordo è quotato quanto vale? quanto è andata? comunque insomma la Monteverdi litiga con Selvaggia Lucarelli che è una collaboratrice del quotidiano scusatemi se vi parlo di queste cose ma tra poco arriveremo a Sanremo ma la cosa più divertente per la quale vi parlo non tanto perché in una finta lettera sul fatto quotidiano travaglio vuole dire che lui a massima stima della 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 Lucarelli è pessima evidentemente della sua amministratrice Monteverdi un ex diciamo travaglio ma la cosa bella è il motivo non per la straordinaria qualità giornalistica opinionistica di Selvaggia Lucarelli no non per quello ma perché ha sempre garantito un contributo di lealtà ha sempre garantito un contributo di lealtà il principio giornalistico diventa il contributo di realtà favoloso Trump litiga su Johnson a proposito di lealtà reciproca tra i due paesi anglosassoni per Huawei perché i cinesi Johnson li vuole usare per i 5G e invece non ci pensa proprio Trump che continua a usare Nokia le banche stanno andando alla grandissima dice oggi solo 24 ore 48,5 miliardi di fatturato nel 2019 ma quel che conta sono i 5 miliardi di dividendi cash che danno i suoi azionisti che rendono alcune banche come intesa unicredito appetibili sul mercato soprattutto intesa che rende 6-7% soltanto stando lì fermi tenendosi il titolo e farsi dare e facendosi dare il rendimento freccia rossa indagati 5 dipendenti dell'RFI cioè la gestore della rete che dovevano gestire la rete per quello scambio maledetto però sia i sindacati sia il quotidiano nazionale si chiedono ma perché non ha funzionato nessun sensore lì c'è tutto un dettaglio sui sensori automatici che avrebbero dovuto proprio evitare l'errore umano quanto l'errore umano supera i sensori ecco in questo c'è una procura che sta indagando vedremo nelle prossime ore l'industria intanto non è solo ferma in Italia e questo è il grave perché in Germania che è il paese più importante d'Europa ha perso il 3,5% di crescita nell'ultimo scorcio del 2019 in Francia anche grazie l'attività produttiva l'attività produttiva a dicembre è diminuita del 2,8% sostanzialmente l'Italia sta facendo molto meglio di questi anche se il problema è che l'Italia arriva a questi dati negativi con un po' di ritardo cioè loro si fermano e come un vagone poi il nostro che è il terzo vagone si ferma quando i primi due si sono fermati quindi insomma non c'è da gioire sul fatto che dicembre abbiamo fatto meglio di loro speriamo che sia così ma il mondo è un po' strano perché oggi Wall Street Journal apre il suo il pezzo del Wall Street Journal è aumenta l'occupazione in America 225.000 occupati in America questo fa sì che siccome c'è più gente che è occupata e c'è più gente che cerca lavoro negli Stati Uniti aumenta la disoccupazione ma sapete quanto aumenta dal 3,5% al 3,6% questo è il dato di disoccupazione degli Stati Uniti ciao core per il resto l'unica cosa che riguarda questa zuppa e Sanremo il pezzo di Caverzan oggi sulla verità che prende in giro Benigni che in realtà ha preso in giro tutti noi 300.000 euro dei soldi nostri per farci rispiegare la Bibbia da Benigni e il sesso gay spiega Caverzan trovato nel Vecchio Testamento beh roba da pazzi 300 carte per Benigni e se direi che per oggi è tutto noi ci siamo appuntamenti come sempre domani domani sarà una giornata complicata che sono di ritorno a Roma per Quarta Repubblica per lunedì sera siate tutti connessi ciao